La giornata della vita si svolgerà a Siracusa domenica prossima. Giornata della vita, il tema della manifestazione che l'Arcidiocesi di Siracusa con l'Ufficio di Cesano per la Pastorale della Famiglia organizza per domenica 2 febbraio e prevede un corteo a cui parteciperanno circa 300-400 persone appartenenti alle varie realtà ecclesiali della città. Per domenica 2 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 ci sarà il divieto di transito momentaneo al passaggio del corteo nelle vie Piazza Pancre, Largo 25 Luglio, Corso Matteotti, Piazza Archimede, Via Roma, Piazza Minerve, Piazza Duomo. La giornata della vita sarà una giornata di preghiera per le vocazioni e di ringraziamento al Signore per il dono di tanti consacrati e consacrate che in terre di missione o nella ferialità della vita e nel lavoro quotidiano, vivendo in contesti spesso anche difficili, si prendono cura degli ultimi e dei più fragili e sono testimoni e annunciatori della presenza di Dio nel mondo. Nella giornata allora dedicata tutti i consacrati rinuano l'impegno a essere luce del mondo e sale della terra, a operare per la pace e la fratellanza accogliendo l'invito del Pontefice a essere uomini e donne che illuminano il futuro. Grazie a tutti.